Benvenuti tutti, oggi siamo con un mio amico che aspettava questo momento perché allo speciale 5 iscritti e l'avevo detto che portavo GX ma stranendo sul canale, ovvero Dany, un mio compagno di parte. Gli scrivo, stiamo registrando così partiamo subito. Allora, ha scritto ciao, sono Dany, lo sponsor di Venerarte, sì che sono io poi, GX Venerarte, e direi di iniziare subito con una bella partitina. Io mi metto Penny, come aprivo, e andiamo a farci una bella sopravvivenza. Allora, 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 vede raga, vi ricordo che domani forse, no domani no, per tre giorni non ci sarò perché andrò a Rimini a fare un torneo. Ecco qua, andrò a Rimini a fare un torneo di calcio per tre giorni, quindi non ci sarò, non farò video per tre giorni, però, appena tornato dovrò fare tre video in un giorno, cioè il lunedì, dovrò fare tre video per recuperare quelli che ho mancato. Allora, allora, abbiamo solo due power-up e questo non è un bene per niente, proprio. Devo sparare alla cieca, ecco, lo sapevo che c'era qualcuno, lo sapevo. Vai via, Dany, vai via, vai via, vai via, non voglio iniziare, ma è bellissimo, Daniel. Bravissimo! Che poccato. No, vabbè, 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 usciamo. No, no, no. Vabbè, gli scrivono, gli dico che vorremmo, vabbè, 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 è stato uno sbaglio. Vabbè, mettiamo pronto e andiamo. Vai. Grande Dan, grande Dan, grande, grande, grande Dan, grande Dan, grande Dan. Ve lo dico specialmente a voi, compagni di classe, che siete praticamente gli unici che mi seguite. E vi ringrazio tanto per quello che state facendo, specialmente da David. Ok? Questo video è praticamente per Daniel, però lo dedico anche per un po' a David, ok? Spero che te lo andrei a guardare perché sarà davvero bello, faremo circa 20 minuti di video. Caspia, no, sono morto. Vai via, vai via, vai via. Non rimanere lì che ti ucciso. Non voglio finire quinto. Non voglio finire quinto. Vai via. Vai via, ti prego. Rega, comunque, vi voglio dire che se vi aspettate le live, non so ancora come farle, dato che è praticamente il terzo video che faccio su YouTube, quindi vi chiedo scusa per questa ignoranza di YouTube, però quando imparerò a farle, vi prometto che sarà la prima cosa che porterò sul canale. Fra un po', ve lo dico, inizieremo a fare anche Fortnite, con sempre Daniel, ovviamente, con lui ormai lo sponsor ufficiale, mamma mia come l'ho colpito, gritto in the face. Attenzione sta Piper, Attenzione sta Piper, dovevo andare giù, dovevo andare giù, Caspia, no, mi si è bloccato il touch, no, mi si è bloccato il touch. Caspiterina, no. Caspia, no. Vai, vai, danni, 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 andiamo, 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 andiamo. Guarda lì quel pocio che ci muore, guarda lì che ci muore, andiamo, 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 andiamo. Vieni, 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 attenzione, questa Piper pare un po' la casa perché questo tablet la mira proprio non ci va d'accordo. No. No. Vabbè, 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 dai, 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 non serve proprio, no. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, no, usciamo, va bene, allora, io direi, stavolta di togliere questo qua, mi metto a scena. Andiamo, dai. Ah, lo è cambiato. Allora, siamo a 980, un trofeo. E vorrei racconnere da video, come ho detto nell'altro video. E iniziamo con un'altra partita. Allora, tu danni il bagnino, guarda questa qua. Bravo, tu sì che sai come giocare, tu sì che sai come giocare. Guarda qua, mamma mia, mamma mia. No, perché mi si guarda il touch, perché mi si guarda il touch. No, ma è assido, ho già incontrato, attenzione. L'abbiamo beccato, eh. Io direi di pushare, di pushare, di pushare. No, 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 si ho fatto uccidere un pollo. Eh, guarda qua. Eh, no. Scusate. Un pollo che si ho fatto uccidere, un pollo. Mamma mia. Stiamo facendo un'altra battaglia. Siamo qui. Allora, questo qua dovrebbe andare giù, però... Solo se riusciamo ad avvicinarci, cosa che forse non riusciremo a fare. Perché ci... 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 Ci dovrebbero riuscire a tenere lontani bene, con Lul, che ha tante pavorate, però quel bombardino dovrebbe andare giù. Quel bombardino dovrebbe andare giù. Quel bombardino dovrebbe andare giù. No, la cacchierò, la cacchierò, e via. Mamma mia. No, se lo riuscivamo ad uccidere. Mamma mia, come l'ho ucciso. Due power up. Quanto ho dieci? Non è una gran cosa. Caspiterina, no. Sì. Non cacchierò, vabbè. Vai, vai. Distorto. Sì, l'abbiamo vinto. Ma che vittoria abbiamo fatto? Ma che vittoria abbiamo fatto? Ma non ci posso credere. Mamma mia. Che vittoria abbiamo fatto? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Non ci credevano anch'io. C'è due power up contro 17. C'è chi vuoi che vinca. E meno male che ho preso quella power up là che ho ucciso quel bombardino. Se no non ce l'aveva neanche due power up. Che giocato abbiamo fatto? Che giocato abbiamo fatto? Non lo so. No. Ho perso la connessione. Attenzione. La connessione. Mi laggo. Mi laggo, mi laggo. Scusate, ma mi laggo. No. Non so. Vediamo che non ho campato tutta questa partita. No, ma nera. vabbè mi laggavo usciamoci prima questa bella cassettina con Daniel vediamo cosa troviamo allora 20 monete 10 punti di nita 25 di colta spero che non brawler però vabbè allora io stavolta direi di andare di pocio metto pocio direi che con pocio possa funzionare perché nell'altro account sono un boss con pocio oggi ho fatto qualche partita nell'altro account sono arrivato a 2000 trofei infatti domani vi faccio vedere il nuovo dynamite che ho direi di andare dopo anche a fare non solo sopravvivenza ma anche rapina e footbrawl e anche direi io anche aspetta e a raffagemm che dobbiamo anche livellare un po' tutti i brawler tutti i brawler tutti i brawler sto mortis mamma mia quanto l'abbiamo lasciato poco di vita nooo aspetta no Daniel non mi morì così ok 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 nooo caspita caspita erbola caspita erbola caspita erbola nooo aspetta erbola aspetta erbola aspetta erbola aspetta erbola la gara no caspita erbola caspita erbola aspetta erbola aspetta erbola aspetta erbola aspetta erbola scusate ma sul tablet dove registro costamente il touch è un po' buggato quindi vai devo andare di là Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai che li uccidiamo tutti. Grazie. Andiamo, 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 andiamo. Grazie a tutti. No, no! No, no! No, no! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione